Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da MossaGioker, siamo tornati signori con un nuovo video Finalmente ragazzi, dopo un po' di tempo che non registro, sono qua e neanche sono ancora più abituato a registrare Quindi ragazzi, bene, si ricomincia da capo Ma oggi perché sono qua? Perché praticamente un mio carissimo amico Alex Depase Che tutti quanti penso già conoscete Sto parlando di uno dei tradutori più forti a livello mondiale Colui che mi ha fatto appunto anche questo bellissimo braccio Che avete visto in tantissimi già i video scorsi sul canale Ma potrei farvi un video dedicato appunto proprio al mondo del tattoo Che sono quelli che appunto io ho tutti quanti sparsi per il corpo Dove ne potremo andare a parlare uno ad uno e spiegarvi il significato Visto che questo video me l'avete chiesto ormai da tantissimi anni appunto i significati dei miei tatuaggi Perché tutti i miei tatu hanno un significato Ma oggi non siamo qua per parlare dei miei tatuaggi Ma siamo qua per farvi vedere alcuni prodotti che ha fatto il mio carissimo amico Alex Devastanti mi ha mandato quattro tipi di scarpe Che ragazzi miei sono veramente una più bella dell'altra Io mi sono innamorato specialmente di un paglio Che vi farò vedere più tardi Quindi ragazzi mi raccomando seguitemi Sia anche su Instagram Seguite Alex Depase su Instagram Ovviamente se volete anche voi poi A fine video date un'occhiata a questi prodotti Vi lascio anche il sito ufficiale Sempre in descrizione Quindi mi raccomando Io direi che possiamo iniziare e svelarvi Cosa c'è dentro queste bellissime scatole Che già solamente dalla scatola Io me le comprarò solamente per quello Il brand Alex Depase Nato dalla collaborazione tra il nodo tatuatore Alex Depase E il collettivo creativo Cardiff Sviluppa la propria cifra stilistica Nelle sintesi fra lo stile del tatuaggio realistico E il mondo fashion delle calzature sportive di lusso Il nome stesso diventa omaggio all'artista E fonti di ispirazione Una vocazione tangibile sulla suola Dettaglio ricercato e descritto dove campeggiano Alcuni dei più famosi tatuaggi realizzati da Alex Depase Un prodotto made in Italy Che si concretizza i sneakers e i runner Rivolte a spetti vincenti Che non vogliono rinunciare al comfort e allo stile di ogni contesto Esclusività, originalità e qualità Sono le parole d'ordine del brand La collezione dei soldi del brand Declinata in modelli uomo e donna È un inno alla personalità La suola è l'anima della scarpa Sulla superficie il vidello nappato conversa con la pelle scamosciata In un continuo mashup Dove il tessuto tecnico incontra dettaglio decorativo Gli spacchi metallici diventano increspature E definiscono lo stile rock e impertinente della scarpa Bene ragazzi Come ben avete visto Questi qua sono i 4 modelli di scarpe Che io ho scelto da mostrarvi Che secondo me ragazzi sono stupende Una meglio dall'altra Poi questa qua ragazzi Che è l'edizione speciale limitata È veramente qualcosa di incredibile Anche se io vado pazzo Per questo modello qua ragazzi Questa bianca con questi spuntoni Qualcosa di eccezionale Ragazzi che dire Io spero ovviamente questo video vi sia piaciuto Abbiamo fatto qualcosa un po' di differente Spero di essere stato più professional possibile Ringrazio ovviamente il mio carissimo amico Alex De Base Per avermi dato l'opportunità Di vedere, di toccare con mano Questi prodotti veramente fantastici Io ovviamente ragazzi Vi invito a passare qua sotto in descrizione Potete trovare la pagina ufficiale Del sito di Alex De Base E in più ragazzi Vi invito a passare anche su Instagram Tanto il cane che passa Sta facendo un casino incredibile Ma noi ragazzi Vi ringraziamo E il bello è proprio questo Con sto bestione qua a fianco a me Fatti vedere no? Vieni qua Vieni qua Eccolo qui Quindi ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo Al prossimo video Ciao belli Gli metti i miei scarpe pure a Ragnar Ecco sì Arrivederci Saluta Ciao 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 Ciao